Predane, grazie a tutte e a tutti voi per l'invito a questo incontro. Purtroppo ho potuto sentire solo parzialmente il tuo intervento interduttivo perché a un certo punto l'audio è scomparso. Dato che io dal punto di vista informatico sono abbastanza incompetente, ci ho messo un po' di tempo a recuperare il tutto. Detto questo, il compito che mi è stato affidato in 10-15 minuti all'interno di tutte le problematiche che sono state accennate in precedenza per quanto riguarda l'autonomia differenziata e lo sviluppo di politica regionale autonoma in senso più generale del termine. La tematica del reddito e della distribuzione del reddito nonché della necessaria riforma della sicurezza sociale credo che sia un punto assai di rimente. Credo che però sia necessario anche fare un minimo di chiarezza quindi io adesso esporrò, dividerò il mio intervento in due parti una parte di definizione e una parte più di policy, di construence quali potrebbero essere le linee su cui intervenire data una certa definizione del concetto di reddito di base io lo chiamerei reddito di base piuttosto che reddito di cittadinanza vista l'equivocità che il termine cittadinanza ha alla luce degli ultimi danni e anche alla luce della legge esistente che come sappiamo consente di dare reddito di cittadinanza anche a chi non è cittadino italiano purché sia stato in modo regolare sul territorio italiano per almeno dieci anni quindi qualcosa che è anche forse un vulnus costituzionale da questo punto di vista come è stato già più volte fatto rilevare. Ma al di là di questo, come possiamo interpretare un concetto di reddito di base all'interno di un meccanismo produttivo e di organizzazione del lavoro che è molto diverso da quello a cui eravamo abituati a pensare fino a una ventina d'anni fa un sistema produttivo dove la frammentarietà del lavoro la precarietà e lo sviluppo di forme è molto eterogene sia quantitativamente che qualitativamente la prestazione lavorativa ha dato origine anche ad altrettante forme diversificate di remunerazione dell'attività lavorativa e ultimo, diciamo, new entry anche attività di non remunerazione nel senso che in Italia, come sappiamo il lavoro non pagato, non perché volontario ma non pagato non free labor ma un paid labor per dirla chiaramente all'inglese è in forte ascesa. Ora, questo dipende dal fatto che la prestazione lavorativa vede sempre più impegnate quelle che sono le nostre facoltà capacità umane nel senso normale del termine capacità di apprendimento capacità relazionali capacità di ascolto capacità di formazione i sentimenti che caratterizzano la nostra individualità vengono sempre più utilizzate come componente del processo lavorativo e questo significa che c'è un coinvolgimento sempre più pervasivo di quello che è la nostra vita nella produzione di ricchezza e nell'organizzazione produttiva per farlo in breve noi siamo passati da una fase in cui le facoltà cognitive relazionali, sentimentali venivano messe al lavoro e venivano utilizzate nella prestazione lavorativa attraverso nuovi modelli di organizzazione del lavoro che è un'organizzazione flessibile precaria lo sviluppo delle tipologie contrattuali in forme remunerative fiscali di chi ne deriva e oggi e oggi assistiamo un ulteriore avanzamento di questo processo perché le nostre facoltà cognitive relazionali sentimentali eccetera eccetera vengono messe direttamente a valore non spesso spesso non tutte non passando più per un'intermediazione di organizzazione del lavoro allora in questo senso quando noi in questo senso entra diciamo la produzione di ricchezza che non viene riconosciuta né certificata dalla legislazione vigente né dai contratti collettivi di lavoro né anche dalle stesse contrattazioni individuali noi siamo di fronte al fatto che quando siamo all'interno di quello che è il capitalismo delle piattaforme oggi le piattaforme sono diventate per la visione della nostra vita lo vediamo anche in questo momento che stiamo utilizzando Meet ma le piattaforme ormai all'interno delle app dei cellulari sono pane quotidiano e tutte le volte che noi ci interconnessiamo con qualcuno sviluppiamo una relazione abbiamo un rapporto di lavoro passiamo attraverso questa intermediazione questa infrastruttura tecnologica questa infrastruttura tecnologica a differenza del passato è in grado di captare di sussumere quelle che sono i nostri desideri le nostre informazioni i nostri dati le nostre capacità relazionali e trasformarle in valore per qualcuno la questione credo che sia centrale che debba essere posta per capire la tematica del reddito di base la sua importanza la sua adeguatezza al contesto attuale sia che oggi non c'è più una netta distinzione tra tempo di lavoro e tempo di non lavoro così come non c'è più una netta distinzione fra chi è occupato e chi viene definito non occupato ovvero disoccupato non c'è più una netta distinzione tra produzione e riproduzione da questo punto di vista e anche tra attività produttive attività di consumo noi assistiamo a una commistione per cui spesso l'attività di consumo diventa a sua volta produttore di valore insomma siamo in un contesto in cui credo che la distinzione la nuova dicotomia che deve essere evidenziata sia fra chi fa un'attività che produce valore ma non viene certificata come tale e quindi non viene pagato di fatto e chi fa un'attività che viene certificata come produttrice di valore e quindi all'interno di una struttura organizzata legiferata più o meno bene o più o meno male adesso non ci interessa quindi siamo tutti volenti o nolenti direttamente o indirettamente produttori di valore la nostra vita il nostro stesso vivere è all'interno di un meccanismo di mercificazione e di produzione di valore spesso del quale non siamo neanche perfettamente coscienti da questo punto di vista e quindi diciamo che oggi il disoccupato in senso classico di fatto è stato superato dalla stessa evoluzione dell'organizzazione capitalistica attraverso il capitalismo delle piattaforme e oggi la distinzione è fra chi fa un'attività remunerata e chi fa un'attività non remunerata e allora a questo punto il salario come forma organizzata di remunerazione del lavoro certificato come produttivo non basta più perché c'è un'attività produttiva non certificata che esce e va oltre la questione salariale e che deve essere remunerata qui entra la questione del concetto generale di reddito di base cioè il reddito di base non come assistenza e va benissimo che sia anche assistenza quindi come strumento antipovertà così come è stato pensato in quasi tutti i paesi europei così come anche pur con tutti i limiti la legge sul reddito di cittadinanza in Italia aveva questa finalità ricordate aboliamo la povertà e tutte queste belle cose no? ma non è solo questo il reddito oggi se vogliamo dare una calare il reddito di base nel contesto della valorizzazione capitalistica contemporanea è soprattutto forma di remunerazione che non è assistenza bisogna fare un salto culturale rispetto a questo remunerazione di una capacità di produzione di valore che poiché non viene riconosciuta può essere spropriata liberamente è lavoro non pagato noi nella vita facciamo una serie di atti che producono valore di cui magari non ne siamo neanche perfettamente coscienti e che questo valore va a qualcun altro va a quotarsi in borsa va da qualche altra parte questo sarebbe tutto un discorso che adesso ovviamente non c'è il tempo di fare e in questo ambito i territori e le comunità territoriali giocano un ruolo fondamentale nel discriminare tra chi produce valore in modo certificato e quindi riconosciuto e remunerato e chi invece produce valore non riconosciuto e non certificato e quindi non remunerato e qui la questione territoriale stiamo parlando dell'autonomia differenziata ha un'importanza da questo punto di vista e se il reddito di base è remunerazione di una produzione di ricchezza che viene che è stata già effettuata ne segue un corollario fondamentale che fa piazza fulita su tutti i migli equivoci e misandesterni sul concetto di reddito il reddito di base deve essere incondizionato in quanto remunerazione tu hai già dato hai già prodotto io ti riconosco il tuo essere produttivo e allora ti do una forma di remunerazione la questione ovviamente è quale livello è possibile misurare questa forma di remunerazione chi lo eroga come viene organizzato queste sono le tematiche che una sinistra demi questo nome dovrebbe porsi ma partendo dal presupposto che il reddito di base in quanto atto di remunerazione quindi di ritorno di un qualcosa è per forza incondizionato non devo meritarmi nulla perché ho già dato l'incondizionatezza fa da piazza pulita di tutte le confusioni sul reddito e se noi andiamo a vedere le varie leggi che ci sono in Europa noi potremmo fare una classifica dei vari provvedimenti ultimo quello è la riforma che si sta facendo in Germania sulla base del grado di incondizionatezza che queste misure sostegno del reddito hanno dall'RSA francese dalla social health tedesco la renta basica spagnola eccetera eccetera allora li vedremo e devo dire che la legge sull'edito di cittadinanza in Italia attualmente in vigore che verrà probabilmente modificata in una direzione esattamente opposta di quella che sto dicendo presenta dei gradi di condizionatezza abbastanza elevati anche se non è la peggiore a livello europeo perché quell'attributo di possibilità di rifiutare un'offerta di lavoro che non sia congrua apre un piccolo spiraglio ed è infatti non a caso il tentativo del nuovo governo Meloni di intervenire sul reddito di cittadinanza e proprio eliminare questa possibilità di rifiuto di una offerta di lavoro congrua qui entra l'ultimo punto di cui voglio parlare che è necessario anche qui fare un'estrema chiarezza per distinguere concettualmente ma anche politicamente le politiche di reddito dalle politiche attive sul lavoro la grande confusione che spesso c'è dietro questa tematica che si considera le politiche di sostegno a reddito come parte delle politiche attive del lavoro è un'emerita stupidaggine questa è una boiata pazzesca direbbe Fantozzi perché un conto sono le politiche attive sul lavoro che devono essere svolte nel contesto di produzione a livello territoriale quindi sono le regioni gli enti territoriali che dovrebbero sviluppare le politiche attive del lavoro le politiche di manutenzione del territorio interventi sulla base di quella che è la configurazione economica sociale di quell'area di riferimento mentre le politiche di distribuzione devono essere decise a livello centrale così come il salario deve essere deciso non ci siamo hanno fatto i nostri padri battaglie contro le gabbie salariali quindi sono due livelli molto diversi da questo punto di vista e a rischio dell'autonomia differenziata è proprio di separare ulteriormente questa situazione e di peggiorare quindi aumentare i divari che possono scaturire dal fatto che un intervento distributivo avvenga su base regionale non su base di omogeneità nazionale no? e concludo perché le cose che sarebbero da discutere sono tante come potete immaginare auspicando che su questa tematica del reddito di base e sulla sua incondizionatezza si possa aprire un confronto un dibattito anche con le forze sindacali che spesso e volentieri su questa tematica sono abbastanza restie diciamo così e anche sul fatto che qualunque proposta di reddito di base il più possibile incondizionata deve andare a braccetto soprattutto considerando la situazione italiana con l'introduzione di un salario minimo legale un salario minimo legale che può essere più o meno legato adesso qui non voglio entrare in dettagli perché la discussione si farebbe lunga e noiosa con le tariffe della contrattazione collettiva nazionale ma deve essere partire da un semplice concetto un'ora di lavoro in questo paese qualunque essa sia non può essere pagato meno di tot questa è la questione questo tot lo stabiliamo sulla base di parametri di criteri ma il concetto di partenza deve essere questo e così esattamente come noi eroghiamo un certo livello di reddito e qui la discussione sul livello e sulle risorse ovviamente aperta ma ci sono state già date tante risposte tanti studi che dicono che la cosa è perfettamente fattibile almeno come minimo obiettivo quello di portare tutti coloro che si trovano al di sotto della sua riprovertà relativa in un assoluto a quel livello lì cioè ad avere un reddito di circa 750-800 euro al mese tutti coloro che non ce l'hanno quindi diciamo 10.000 euro l'anno per fare cifra tonda le risorse per portare tutti coloro che si trovano al di sotto di questa soglia di reddito ci sono ci sono anche poi questo apre la questione e però adesso finisco veramente scusate perché vi ho già rubato troppo tempo sulla universalità io personalmente ritengo che è più importante l'incondizionalità cioè chi ha il percorso di reddito lo percepisca in maniera incondizionata quindi senza dare niente in cambio e capisco che questo può una cosa proprio perché atto di remunerazione e poi vediamo sull'universalità cioè a tutti a tutti beh qui ovviamente la discussione è aperta bisogna vedere perché qui entra un problema effettivamente di risorse o tu lo dai a tutti ma dai 80 euro al mese io non so quanto questo possa essere utile oppure se vuoi che il reddito sia uno strumento di autodeterminazione che consenta di dire no a degli offerti di lavoro capestro al ricatto delle necessità e del bisogno e quindi svolga anche una funzione positiva di progresso no e anche strumento di conflitto da questo punto di vista allora è chiaro che deve essere a un certo livello tale da poter poter dire di no altrimenti sarebbe una cosa inutile io mi fermo qui le cose come vedete sono tante vi ringrazio ancora spero di essere stato sufficientemente chiaro grazie